A lui overe la sera lo pigliaron casaranne, lo portaron già a sciunione, e Maria rarriera le porte, casindia le riscusciate, ratacidun, ratforte, su carnuzze relegate. Lassate la peggio, sta povera ronna, mentre cavite in possesso a mia. Maria, è tanauce e sa mandinne, vitte a sa figlio, alla cruce capenne, e tu ronna mi chiamaste, manco mamma mi riciste, se mamma ti chiamava, la cruce mi disciuvava, se mamma ti ricia, la cruce mi nicaria, mamma, beniricitemi di tavinne, caluma cuorpo la cruce prutenne. Quasi le stesse parole sembrano accomunare questo conto al conto di Maria che incontra il falegname. Non sono parole che hanno lo stesso significato. In questo caso, infatti, il pianto di Maria è un pianto intriso di grande speranza. Nel momento forse più doloroso, quando lei si rende conto che tutto ormai è perduto, e che il figlio è prossimo alla morte, lo rimprovera quasi dicendogli perché mi hai chiamato donna e non mi hai chiamato mamma. Lui le risponderà nella maniera in cui poi i modicani riconosceranno questa donna, cioè ti ho chiamato domina, ti ho detto che sei signora, signora della nostra città, e quindi a te consegno la nostra città e la nostra resurrezione come uomini, soprattutto la nostra grande speranza. Quindi a lei verrà data la chiave della città e sarà lei a benedire la nostra città.